Resta fermo sulla sua posizione Matteo Salvini riguardo ai migranti attualmente bloccati a largo delle coste maltesi sulle navi delle ONG C-Watch e C-I. Non cambierò mai idea, non solo da Ministro degli Interni, che deve tutelare la sicurezza dei confini italiani e la sicurezza degli italiani, ma anche da padre, perché un cedimento oggi da parte di chiunque significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani gestito dai mafiosi e dagli scafisti. Non cambierò mai idea, chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti, chi vuole aiutare l'Africa a tornare uno splendido continente da cui non scappare, ma in cui fermarsi a vivere e a lavorare, deve bloccare gli scafisti e delle navi che non rispettano le regole, che battono bandiere straniere, che pensano di imporre con ricatto a Paesi liberi e sovrani un'immigrazione fuori controllo. Questo non avverrà mai col consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all'interno del Governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e ONG, non farà un buon servizio né a quelle donne e a quei bambini, né all'Italia, né al continente africano.